Grazie per averci scelto anche in questa giornata. Come sempre vi daremo tutte le notizie di cui siamo a conoscenza, utilizzando anche l'ausilio dei giornali e il contributo degli ospiti che sono in studio con noi. Vi presento subito il primo ospite, Giorgio Pavan. Grazie Giorgio per essere con noi. Grazie a voi per l'invito. A gestione sostanzialmente dell'Isra di Treviso, quindi diciamo tutte le case di riposo, i centri di edilizia residenziale per gli anziani del Trevisiano. E il gristo di Mogliano Veneto. E Mogliano Veneto, grazie per averlo specificato. Però prima di partire con questo tema, vediamo questa notizia tragica. Siamo a Sant'Urbano, nel Padovano. Questa mattina intorno alle 8 c'è stata un'esplosione all'interno di una abitazione di due piani. È morta una donna, mamma di due figli. La vedete in fotografia, si chiamava Alina. Un'esplosione e un successivo incendio avvenuto all'interno di questa abitazione, probabilmente a causa di una fuga di gas. La deflagrazione è venuta, come vi dicevo poco prima delle 8, all'arrivo dei vigili del fuoco a corsi da estero Vigo e Padova. Il papà con i due bambini di 3 e 9 anni si trovava già fuori dalla casa. Le squadre di soccorritori hanno iniziato le operazioni di spegnimento, mentre altri operatori muniti di autorespiratore sono entrati all'interno dell'abitazione, trovando la donna che purtroppo era già prima di vita. Secondo una prima ricostruzione, l'esplosione sarebbe venuta al piano terra di questa abitazione, mentre la donna era in cucina e stava preparando la colazione per i bambini. Papà e i bambini invece si trovavano al primo piano. Nell'esplosione la donna sarebbe morta sul colpo. Il papà e i bambini sono stati stabilizzati dal personale sanitario del SUEM e si trovano in questo momento ricoverati in ospedale. Sono ancora in corso le operazioni di bonifica e gli accertamenti per determinare le cause dell'esplosione. Le foto sono quelle che vedete. Purtroppo ha perso la vita una donna di 37 anni, mamma di due bambini di 3 e 9 anni. Vi facciamo vedere anche questa notizia battuta in prima istanza da Treviso Today quotidiano online della marca trevigiana. Lanciavano sassi contro i treni. Sono stati denunciati tre ragazzi marocchini, il più grande ha 20 anni, gli altri due invece sono minorenni. 16-17 anni sono stati trovati mentre lanciavano sassi contro i treni in corsa sulla banchina della stazione di Castelfranco Veneto fermati dai carabinieri della stazione di Castelfranco. Allora siamo con Giorgio Pavanna che ancora ringrazio per averci raggiunto in questa domenica e con Giorgio vorremmo iniziare da subito a commentare il caso di Sandona di Piave un caso che abbiamo seguito anche noi nei nostri notiziari una casa di riposo all'interno della quale si è scoperto che avvenivano delle situazioni di maltrattamenti in un caso anche di abusi sessuali nei confronti degli anziani. Una situazione pesante, ci sono quattro persone che sono state arrestate, un'anziana è morta ora si cercherà di capire che cosa è accaduto, è caduta dalle scale con la sua carrozzina si trovava in un posto in cui non avrebbe potuto arrivare da sola con la sua carrozzina. Allora Pavanna, lei che conosce il mondo della residenzialità per anziani come è potuto accadere una cosa di questo tipo? Una domanda un po' banale ma in tanti si stanno cercando di capire come è potuto succedere pare addirittura che ci fossero state delle segnalazioni da parte di qualche familiare ma come è potuto succedere? Intanto è una tragedia immane che ha colpito nel profondo tutti noi ogni tanto sentiamo qualche notizia che ci viene da altre parti d'Italia e noi in Veneto diciamo beh ma insomma succede in altre regioni qualche volta al sud, qualche volta al centro e questa volta insomma è capitato a 300 metri da casa mia perché io abito a Sandona ed è una tragedia immane allora io penso che ci sono almeno due tipi di risposta da questo punto di vista un tipo di risposta è che quando si fa una violenza sessuale nei confronti di una persona di 90 anni affetta da demenza e immobilizzata siamo all'interno, lasciamo perdere la depravazione umana io dico siamo all'interno di un problema psichiatrico importante e credo che sia come dire l'uomo che si trasforma in belva e che non fa più parte insomma della come dire della relazione umana credo tuttavia che un altro livello di problema sia quello del come dire di un degrado allora all'interno di una situazione un po' degradata possono anche accadere questi fatti perché il fatto più grave vedi in ogni contesto accadono fatti di questo tipo cioè voglio dire tanto stiamo vedendo le immagini giusto per contestualizzare questa è la casa di riposo, monumento ai caduti di guerra all'interno di ogni categoria abbiamo visto medici che trappiantavano valvole cardiache diciamo che non funzionavano bene per fare budget abbiamo visto politici corrotti, abbiamo visto che ne so preti pedofili abbiamo visto allora c'è un tema diciamo così che riguarda ogni categoria dove insomma c'è il male il problema più grande è che ogni categoria dovrebbe avere all'interno diciamo così quegli elementi di controllo che si chiama organizzazione un'organizzazione che funziona bene che riesce diciamo così a raccogliere al primo istante questo tipo di problema perché i problemi ci sono ogni giorno dopo i tre anni di covid peraltro è aumentato il tasso di stress delle persone le persone non sono più in grado di tollerare niente degli operatori anche secondo lei dell'RSA? ecco questa è una questione importante io penso questo che le RSA sono state colpite in modo drammatico dal covid molto più di altri settori mi spiego gli operatori e gli infermieri degli ospedali sono stati osannati come eroi del sistema e noi siamo a favore ovviamente di questo eroismo noi siamo stati tacciati come carcerieri adesso con questa situazione anche come torturatori allora è un ruolo che non ci appartiene noi facciamo un lavoro che passa attraverso la relazione cioè l'aiuto a una persona che non riesce a farcela da sola quindi questo è l'elemento di fondo allora quando accadono queste cose bisogna subito interrogarci e mettere in nato tutte le azioni di controllo possibili però è una sana organizzazione quella che avvisa quella che è attenta ai segnali ai piccoli segnali che possono diciamo così sotto intendere che ci si possa permettere di fare alcune cose ma lei è mai capitato che lei di operatori ne ha assunti tanti e visti tanti lei è mai capitato di intercettare qualche comportamento e di dover licenziare qualcuno assolutamente sì assolutamente sì guardi adesso noi stiamo assumendo persone ogni anno assumiamo 100-120 persone quindi non sto parlando di poca roba allora un presupposto è questo il decantato valore diciamo umano e sociale dell'Italia e del Veneto sta venendo meno i nipoti dei nostri anziani non vogliono più fare un lavoro di cura quando noi facciamo corsi per la formazione di operatori sociosanitari al posto di trovarci 30, 40, 50 persone che ci iscrivono ne troviamo 3, 5, 8 persone spesso straniere quindi primo elemento noi non troviamo nel mercato del lavoro operatori sociosanitari non troviamo nel mercato del lavoro infermieri non troviamo nel mercato del lavoro medici questo è un grande problema è un problema certo di programmazione della formazione che non si capisce chi abbia fatto una programmazione così demenziale davvero da questo punto di vista allora il primo problema è il mercato del lavoro cosa ti offre da questo punto di vista siamo nella condizione di raccogliere ciò che offre il mercato del lavoro perché non c'è un investimento da questo punto di vista quando uno dice lavoro in casa di riposo è un elemento deteriore non è un elemento di dire come dire lavoro in un'industria elettronica che fa cose che trasformano il mondo lavoro nell'assistenza di persone non autosufficienti allora il primo problema sta lì il secondo problema è una selezione che possa essere una selezione come dire efficace noi il 20-25% delle persone che andiamo ad assumere concludono il loro percorso nei primi due mesi di lavoro cioè nel periodo di prova e l'indirizzo che noi diamo è laddove vedi un'incertezza un'incertezza nei comportamenti nei modi di fare nelle relazioni nella capacità di stare in un contesto di cura nell'incertezza boccia nell'incertezza boccia però questo è solo una parte del problema perché poi voglio dire noi abbiamo bisogno di assistere le persone con un personale qualificato che fa l'assistenza allora quello che bisogna fare è una altro che ci vuole davvero un piano Marshall per gli anziani in te ne ho mandati via diversi certo che sì non c'è alternativa non c'è alternativa perché come dire la cura di una persona debole che non ha capacità di difendersi è una cosa preziosa è una cosa straordinaria noi non possiamo affidarla a chiunque e allora da questo punto di vista l'altro elemento è l'organizzazione cioè quando ci sono telecamere viventi non telecamere finte viventi cioè quando tu hai un'organizzazione sensibile che crede nel valore delle cose che sta facendo che coltiva questo tipo di passione che è curare prendersi cura delle persone quando sei in questa condizione tu hai le persone moltiplicate per i due occhi e quando e a me capita di avere segnalazioni e sulle segnalazioni intervengo immediatamente convoco avvio procedimenti disciplinari faccio le verifiche perché poi voglio dire le situazioni sembrano semplici ma in verità sono complesse nel caso di San Donato non si discute ovviamente ci sono le prove e così via la proposta della politica di installare telecamere all'interno delle case di riposo la trova favorevole no mi trova assolutamente non favorevole precisiamo io sono un tecnico del settore la politica faccia le sue scelte io come dire terrò conto delle scelte della politica e giro di conseguenza non c'è ombra di dubbio ma se posso esprimere una mia opinione allora chiedo a te a te ottantenne ottantacinquenne novantenne non autosufficiente distesa in un letto con tutte le tue funzioni compromesse ti piacerebbe avere un grande fratello che ti vede intanto che ti lavano al mattino che ti curano che ti portano nel bagno assistito che vai in bagno a fare le tue cose eccetera eccetera e avere sempre un grande fratello io del tema del controllo degli operatori nel senso del sindacato eccetera eccetera proprio non mi interessa non è un problema di non si possono controllare gli operatori per carità non è quello io ho il tema della dignità della persona umana che è alla fine della sua esistenza ed è nelle miserie umane che riguarda tutti noi è all'interno e tu gli metti un grande fratello con gente che guarda queste cose no io non ci sto le telecamere va bene quelle usate a San Donà nel senso io ho un segnale facciamo subito una denuncia vengano a fare tutte le ispezioni del caso ed è giusto e quando trovano un colpevole punirlo in modo esemplare ma vivere all'interno delle telecamere credo sia una risposta emotiva di pancia che la popolazione potrebbe sentire come giusta ma io penso che bisogna alzare il livello cioè bisogna dare una risposta di cuore e di testa un'altra cosa che lei ha su quale lei ha posto la sua riflessione in un lungo post su Facebook che io ho trovato molto interessante è che cosa spinge gli altri a tacere di fronte a certe scene di violenza a certe situazioni perché sono stati arrestati quattro operatori ma lavoravano insieme ad altri che non hanno evidentemente parlato e in effetti il problema non sta tanto nel matto di turno o meglio sì ovviamente ma il matto se è un matto isolato voglio dire una organizzazione sana lo coglie lo estirpa e una mela a marcia sul cesto la tiri via il problema è che questa mela a marcia le altre mele che stanno attorno non se ne accorgono oppure se ne accorgono ma tacciano allora quando tu hai una situazione omertosa di questo tipo c'è una carenza evidente di carattere organizzativo non c'è ombra di dubbio ma non tanto nei numeri nella cultura aziendale che tu hai cioè tu hai un valore il nostro valore è dare risposta a persone non autosufficienti non si può scherzare su queste cose e quindi fare un lavoro di management se vogliamo ma anche un caporeparto cioè è la trasposizione degli ideali di una società nel reparto e quindi il sistema per questo dicevo le telecamere vanno bene quelle umane quelle con gli occhi quelle che parlano quelle che dicono è un'organizzazione che agisce di conseguenza guardi che all'interno del sistema sanitario ne accadono di cotto di crude ogni giorno il problema non è il fatto che ne accadono di cotto di crude il problema è il fatto di avere un'organizzazione che è in grado di governare tutto ciò che capita nel bene soprattutto nel male ma governare il bene ecco questo è il tema allora se tu sei all'interno di un'organizzazione disorganizzata è evidente che comanda come dire la forza brutta è evidente che comanda la minaccia è evidente che comanda come dire il tema del tacere perché non si sa mai il peggio che può capitare quando si sente un anziano che dice al parente l'ho letto da qualche parte no? dice al parente taci perché non si sa mai questo è il fallimento dell'organizzazione perché l'organizzazione esiste per questo esiste per dare cura esiste anche per rilevare i bisogni laddove ci sono secondo lei quello che è accaduto a San Donà ha in qualche modo minato la credibilità delle case di riposo sostanzialmente assolutamente sì è un dramma quello che è successo a San Donà io sono stato colpito nella mia intimità di persona per il mio mestiere che faccio su cui credo mi sono vergognato del lavoro che faccio è stata una situazione disastrosa e adesso noi subito il giorno dopo ho fatto una riunione con tutti i miei 25 persone che si occupano di tutte le come dire le diverse parti delle strutture e dire come riconquistare non vediamo l'ora di finire questa storia del covid che con fine aprile finirà per aprire porte e finestre devono entrare i familiari durante il giorno la sera quando vogliono i bambini gli scouti i volontari chiunque com'era da noi prima del covid tanto per essere chiaro quali sono le limitazioni che sono ancora in vigore allora le limitazioni sono legate al fatto che chiunque deve usare l'FFP2 quando entra non c'è più il green pass l'unico problema che abbiamo c'è ancora qualche scoria diciamo così di covid e la limitazione è che non possiamo sino a fine aprile permettere come dire che tutti insieme amorevolmente si incontrino questo è ancora un grande limite quindi dobbiamo in qualche maniera organizzare i flussi diciamo così delle visite in modo un po' ordinato perché questo ce lo dice il ministero anche se devo dire le norme dicono è la direzione che decide abbiamo scaricato diverse responsabilità insomma è la direzione che decide e a un certo punto qualche familiare ce l'abbiamo contro perché abbiamo tutti la necessità del libero tutti ma non siamo ancora lì ma siamo tutti in trepida attesa di partire con questo libero tutti e il libero tutti ci aiuterà e dobbiamo tutti noi organizzarci per come dire rivoltare la frittata ma una cosa sola per dire noi veniamo fuori da una campagna denigratoria anche di carattere politico il governo precedente ministro Speranza e Monsignor Paglia che Speranza ha investito per il PNRR ha previsto zero contributi per l'RSA dicendo che bisogna chiuderle e dico solo una cosa abbiamo 4 milioni di non autosufficienze in Italia 300 mila posti letto siamo al 2% dei posti letto nella media europea è 4,6 sotto la metà avremo bisogno di altri 400 mila posti letto e questi qua vengono a dire così dico non si va da nessuna parte sostanzialmente è un po' come se il tema dell'invecchiamento della popolazione non sia ancora stato preso sul serio nonostante non si stia dicendo da più fronti di più nella conferenza stati e regioni Presidente del Friuli Fedriga piuttosto che altri hanno detto al Ministero guardate che siamo di fronte a un tsunami cioè non è che non si conosca è 20 anni che ci diciamo queste cose non è che si sveglia domani mattina e si dice che siamo pieni di vecchi siamo il secondo paese al mondo più vecchio del mondo del mondo abbiamo 1 milione e 200 mila badanti di cui 2 terzi nero e facciamo così e abbiamo 600 mila persone che lavorano nel sistema sanitario i numeri 600 mila persone nel sistema sanitario nazionale 1 milione e 200 mila badanti di cui 800 mila in nero cioè così si fa la domiciliarietà non si danno aiuti quindi ognuno si arrancia non va bene non va bene è un disastro allora sostanzialmente dal suo punto di vista quale dovrebbe essere il lavoro ora quindi le strutture sul territorio partiamo da qui la valorizzazione del lavoro di cura e di assistenza anche economica assolutamente sì non si può fare un lavoro di questo tipo a turni e prendere dai 1100 ai 1300 euro al mese non si può si mette in difficoltà una famiglia immagina una mamma che fa i turni di mattina e pomeriggio di notte i bambini i nonni da assistere la prima valorizzazione è economica perché poi quando si dice che lavoro fai dice in funzione anche dell'economia quindi la prima valorizzazione di tipo economico la seconda è un investimento culturale cioè tutti i ragazzi vogliono fare quando va bene l'ingegnere elettronico quando non va bene l'influenza non può essere insomma che andiamo avanti in una società così allora il secondo investimento è proprio un investimento sulla ritornare al tema del valore della cura ti faccio un esempio io ho 80 infermieri su 80 infermieri sono praticamente 68 extra europei cioè i veneti che hanno fatto il veneto che oggi sono in casa di posto sono assistiti dai infermieri extra europei non dai veneti non dai veneti e io devo dire grazie a questi signori che vengono dall'altra parte del mondo come li ha trovati come li ha trovati io ogni giorno sono in col con ieri ero col Perù per dire perché mi sto occupando del fatto che vorrei far venire in Italia dal Perù non più infermieri operatori socio-sanitari perché operatori socio-sanitari perché i corsi che ci sono non sono frequentati dagli italiani d'accordo e allora io che ho la responsabilità di dare assistenza vado a prenderlo nel mercato del mondo dove ci sono in Perù fanno gli operatori socio-sanitari gli ex infermieri generici una volta fanno tre anni di università allora abbiamo avviato un percorso di questo tipo e se no Argentina Brasile Perù Santo Domingo Tunisia Albania Moldavia Croazia Romania questi sono India questi sono i contatti che noi abbiamo per recuperare personale il 70% degli infermieri che lavorano nell'RSA è migrato nelle aziende sanitarie e dalle aziende sanitarie stanno migrando nelle cooperative con il famoso budget cachet gettone perché prendono più soldi allora che cosa facciamo? Lasciamo in mano tutta l'operazione ai grandi gruppi che hanno i fondi da 2-3 miliardi di euro l'anno di bilancio ecco questo è un compito della politica non si dica domani mattina che siamo in difficoltà perché le scelte sono politiche e allora la prima cosa da fare è pensare è smetterla di dire che non bisogna fare le strutture ad esempio e certamente come dice il PNRR sviluppiamo l'assistenza domiciliare e va benissimo ma non basterà provincia di Treviso il 50% degli uteri a 75 anni abita da solo ci rendiamo conto ci rendiamo conto noi abbiamo in Veneto 1700 centenari e il 40% delle persone sopra i 75 abita da solo da solo dov'è la famiglia a cui Paglia fa riferimento a cui il ministro Speranza fa riferimento e a cui anche il nuovo ministro del lavoro e del sociale fa riferimento dove sono le famiglie mi spieghino questo ha anticipato un po' la mia domanda che è proprio politica nel senso che lei lavora in questo settore da tanti anni quindi lei ha visto tanti governi alternarsi da destra e da sinistra risposte non ne sono arrivate o c'è stato un governo che con un assessore che le ha dato qualche spiraglio che le ha fatto intendere di aver capito questo problema di conoscere veramente il problema la questione è un po' un guazzabuglio nel senso che noi abbiamo una norma nazionale e poi abbiamo in base diciamo così alla Costituzione la sanità diciamo che ha una regola regionale io dico questo la sanità e l'assistenza nel Veneto era un fiore all'occhiello d'accordo era un fiore all'occhiello gli avvenimenti e ha retto molto di più di tanti altri contesti al pari dell'Emilia Romagna non al pari della Lombardia ad esempio la Lombardia che è andata verso una privatizzazione assoluta ha pagato un costo elevatissimo e praticamente le reti non esistono visto che poi le urne non hanno riconosciuto questa cosa che in realtà state dicendo stiamo dicendo e stiamo sentendo da più parti bisognerà fare una nuova marcia su Roma probabilmente di tipo diverso non lo so bisognerà fare questo portare milioni di anziani non autosufficienti davanti ai ministeri davanti alle regioni e lasciarli là curatele voi curatele voi cosa dobbiamo fare allora voglio dire questo il Veneto è sempre stato più sensibile il Veneto è l'unica regione che ha la ULS con WS socio sanitario ed è stato sempre un filo dell'occhiello adesso il Veneto come dire come le altre regioni sta resistendo meglio di altre regioni ma ci vuole un cambio di passo perché altrimenti anche il buon Veneto che è andato bene per decine di anni anche nelle politiche delle strutture per anziani il Veneto voglio dire il vicino Friuli era l'età della pietra nei confronti del Veneto solo con il Trentino e sappiamo il Trentino quanti fondi ha ci si confrontava ma nemmeno l'Emilia Romagna nemmeno la Lombardia il Veneto da un punto di vista degli investimenti però come dire c'è necessità di una rivisitazione globale nuove politiche dopo 30 anni voglio dire abbiamo bisogno di una nuova visione un nuovo orizzonte concreto reale basato sui dati a me della destra della sinistra del centro non mi interessa niente qualsiasi sia il buon governo voglio dire che mi dà strumenti che legge una realtà che ti ascolta quando dici che vivi nel contesto e dai qualche suggerimento che ti ascolta ecco il buon governo qualunque esso sia noi siamo disposti a seguirlo ovunque basta che ci dia risposte ma non solo risposte basta che ci dia degli orizzonti dire andiamo insieme e proviamo a fare in modo che gli anziani stiano meglio e troviamo gli strumenti e le vie noi mettiamo tutta la nostra buona volontà se la politica mette la sua siamo in due sarebbe meglio e sarebbe una forza propulsiva più grande direi di sì d'altra parte l'alternativa saremo travolti 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 e per definizione dovremmo dire a tutti i politici che hanno anche loro degli anziani di non risolvere i problemi che hanno in modo tale che capiscono direttamente poi di che cosa stiamo parlando seta all'estero gli operatori che arrivano diciamo dall'estero che lei in qualche modo sta contattando a loro quello stipendio va bene? guardi un infermiere che viene dall'estero prende 1700 euro un operatore che viene dall'estero prende 1300 euro vuol dire che possono prendere dei soldi noi li aiutiamo 3-4 mesi con la casa e poi devono arrangiarsi perché non è che do la casa allo straniero l'italiano non dona casa non esiste voi fate una prima accoglienza magari anche noi dobbiamo fare ecco però parte del nostro lavoro è fare in modo ecco di positivo quelli che vengono dall'altra parte del mondo e che hanno ancora un grandissimo rispetto per gli anziani cosa che noi occidentali tra virgolette abbiamo un po' perso come buona educazione no? cioè di fronte all'anziano l'africano il sudamericano si inchinano e dicono con grande rispetto questa è una cultura importante dopo però se tu come dire inizi ad assumere persone che hanno una cultura fortemente diversa ad esempio religiosa non ognuno segua il proprio dio non c'è problema ma un musulmano fa fatica a prendere ordini che ne so da un ortodosso e poi c'è problema della lingua esatto e sul problema della lingua vediamo di acclimatare di fare di fare di fare dei corsi a loro facciamo dei corsi ma non solo all'interno dei contesti quando ci si riunisce ogni giorno ci si riunisce i primi 5 minuti sono dedicati a presentare qualcosa dello stato di provenienza in modo tale che possa esserci un'integrazione e un'accettazione reciproca che anche loro non si sentano discriminati abbiamo bisogno di loro e dirò qualcosa che ha poco a che fare con gli scafisti ma noi dei ragazzi se non facciamo figli noi e se non facciamo assistenza noi abbiamo bisogno di quei ragazzi grazie grazie Giorgio Pavan perché insomma abbiamo toccato diversi temi sapevo che partendo dal caso di Sandonà avendo anche letto un po' tutte le sue riflessioni avremmo avuto terreno fertile per ragionare bene su questo tema lei che ha un'esperienza davvero decennale non possiamo che ringraziarla davvero per averci portato qui dico solo dico solo alle famiglie controllate ma fidatevi siamo gente seria siamo gente che vogliamo è un lavoro del cuore prima di tutto dopo diventa un lavoro anche operativo anche economico ma è prima di tutto un lavoro del cuore grazie grazie Giorgio Pavan noi andiamo in pubblicità poi parleremo di lavoro in qualche modo cercheremo di allacciarci a quello che ci ha appena detto Pavan con Visentin segretario della CGL di Treviso avremo con Fapi Venezia e Treviso quindi tra pochissimo continueremo a parlare di lavoro vi aspetto eccoci ben ritrovati ancora buona domenica eravamo in compagnia di Giorgio Pavan abbiamo parlato di case di riposo ma se avete sentito ci ha dato dei dati molto interessanti per quanto riguarda la domanda e l'offerta di lavoro ha raccontato Pavan che cercano operatori sociosanitari ed infermieri anche all'estero in India in Peru perché non ci sono operatori oggi i concorsi vanno deserti e manca personale di questo continueremo a parlare non solo con i nostri prossimi ospiti abbiamo con noi Marco Zecchinell presidente di Confapi Venezia buongiorno Marco grazie buongiorno grazie a te non è la prima volta per te benvenuto e ben ritrovato grazie infinite ancora e poi siamo con Simone Vainieri imprenditore del settore dei trasporti buongiorno ciao buongiorno con Simone siamo a Vittorio Veneto quindi restiamo nella marca trevigiana non solo circa Vittorio Veneto Vazzola Vazzola benissimo poi adesso parleremo proprio del tuo settore siamo nel settore dei trasporti quindi abbiamo diverse cose da raccontarvi prima però devo darvi due notizie ecco vedo che è collegato anche Mauro Visentin segretario della CGL trevigiana buongiorno Mauro aspetti l'audio lei ci sente magari ok forse proviamo a controllare un attimo il microfono di Mauro perché Mauro ti sentiamo un po' basso ma adesso ci sistemiamo prima però vi faccio vedere due notizie la prima è quella che ha racconta di una donna di 40 anni che non si è fermata all'alte della polizia è stata inseguita per due chilometri è stata trovata con un tasso alcolemico quattro volte oltre il consentito e partiamo da qui con la prima notizia di cronaca non si ferma all'alte della polizia e innesca un inseguimento con una pattuglia per oltre due chilometri una quarantenne residente a Casiera è stata fermata dagli agenti della polizia intercomunale di Ponzano e Povegliano lungo la Postumia la donna è stata fermata all'altezza del cimitero di Camalò agli agenti ha detto di non sapere nemmeno dove stesse andando l'alcol test fatto poco dopo alla quarantena ha indicato un tasso alcolemico di 1,9 grammi per litro quando il limite consentito è di 0,5 la quarantena è stata denunciata per guida in stato di ebrezza la patente è ritirata per un anno l'auto sequestrata nella stessa sera a lungo via Roma all'incrocio con la Postumia gli agenti hanno sorpreso un giovane trevigiano di 30 anni sfrecciare in una zona al limite 50 alla velocità di 104 km all'ora il giovane oltre al ritiro della patente per un mese dovrà pagare una multa di oltre 700 euro allora questa è la cronaca poi vi ricordo la notizia con cui abbiamo aperto il nostro notiziario c'è stata un'esplosione a Sant'Urbano siamo nel Padovano e è morta una donna di 37 anni si chiamava Alina mamma di due figli di 3 e 9 anni piccoli sono ricoverati in questo momento all'ospedale di Padova c'è stata un'esplosione con un incendio probabilmente a causa di una fuga di gas queste le immagini gli operatori pompieri da Estero Vigo e Padova sono ancora sul posto per la bonifica dell'area per cercare di capire che cosa possa essere successo che cosa possa aver strappato alla vita questa donna di soli 37 anni e con due figli c'è un'altra notizia di cronaca che vi abbiamo dato ieri ed è quella che ci porta in America negli Stati Uniti una studentessa vicentina di 17 anni è morta in un incidente stradale la ragazza giocatrice di Sotpol stava coronando il suo sogno sportivo come studentessa fuori sede è stata travolta mentre attraversava sulle strisce si chiamava Giorgia Trocciola la studentessa vicentina di 17 anni investita e uccisa da un'auto mentre attraversava le strisce pedonali a Colorado Springs negli Stati Uniti Giorgia frequentava la Dirty High School nella contea di El Paso in qualità di studentessa fuori sede nell'ambito di un programma di interscambio culturale la tragica notizia ha raggiunto il Veneto e Vicenza colpendo al cuore le tante persone che la conoscevano Giorgia che frequentava il liceo artistico Canova in città era appassionata di softball e giocava nella società Padova Baseball Softball e appunto la sua grande passione per questo sport l'aveva spinta a intraprendere l'avventura negli States coronando così il suo sogno l'incidente è avvenuto verso le 7.30 del mattino nei pressi del parcheggio della scuola che Giorgia stava raggiungendo la Jeep che passando con il rosso l'ha centrata in pieno non le ha lasciato scampo uccidendola sul colpo la sua personalità gioiosa e solare aveva già conquistato le simpatie dei suoi compagni che hanno lasciato per Giorgia mazzi di fiori e improvvisato un momento di cordoglio nel campo sportivo con un cerchio di candele anche il presidente della regione Veneto Luca Zaia ha espresso dispiacere e commozione per la morte prematura della 17enne il papà Gianfranco ha scritto il ringraziamento della famiglia per l'affetto ricevuto in un post pubblico oggi e domani in tutti i campi di softball del Veneto il comitato regionale FIBS ha proclamato un minuto di silenzio in sua memoria giocava softball anche in Colorado era uno dei motivi per cui aveva scelto quella scuola perché era una grande appassionata di questo sport e quindi voleva migliorarsi Giorgia era sicuramente un'ottima atleta ma era anche una ragazza solare sempre allegra faceva gruppo sia quando era in campo che in panchina che nello spogliatoio le compagne le volevano bene e lei a loro era una sicuramente che serviva alla squadra per cementare anche la squadra purtroppo il destino ha voluto diversamente Parliamo di lavoro nero due attività sospese controllo dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro nel mirino i settori dell'agricoltura delle edilizie e della ristorazione elevate a sanzioni per 115 mila euro vediamo Il blizze dei militari dell'arma è scattato nelle ore scorse in un ristorante etnico di Silea sono stati trovati tre lavoratori nero su sette mentre nel comune di Sarmere in un vigneto sono stati individuati tre stranieri impiegati in totale carenza previdenziale ed assicurativa entrambe le attività sono state sospese controlli dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Treviso con il supporto delle stazioni carabinieri della marca mirati a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso e a verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro i settori sotto la lente di ingrandimento le edilizie l'agricoltura e la ristorazione nel corso delle operazioni che hanno interessato l'intero territorio provinciale è stato possibile riscontrare la presenza di sei lavoratori in nero e di individuare numerose inadempienze in materia di sicurezza nel settore delle edilizie i carabinieri hanno controllato attività attività istrana tarzo orsago e codognè sono emerse svariate violazioni in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro tra le quali il mancato aggiornamento del piano operativo di sicurezza il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale forniti dal datore di lavoro la mancata formazione e l'omessa sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori nel complesso sono state elevate sanzioni per circa 115 mila euro Allora eccoci due temi da cui vorrei partire parto con te Marco Zecchinell abbiamo sentito parlare di violazioni e mancato aggiornamento del piano operativo di sicurezza le condizioni di sicurezza io so che voi come Confapi avete dei valori molto forti per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro avete fatto anche tantissimi incontri che cosa succede però nel senso che queste sono tutte cose che sappiamo che si debbono fare però non sempre vengono fatte Allora non più tardi di venerdì mattina siamo stati convocati noi e tutte le altre parti sociali tutti i corpi intermedi dal prefetto di Venezia che ha come obiettivo quello di stendere un protocollo condiviso tra tutte le parti sociali e anche poi gli organismi di controllo per cui erano presenti i carabinieri piuttosto che lo Spisal oltre naturalmente a CGL Cislewil e tutti i datoriali l'obiettivo è quello di condividere un protocollo assieme proprio per la prevenzione degli infortuni sul lavoro che in questa fase in questa fase rappresentano un problema perché diciamo che statisticamente ci troviamo ad avere un incremento di queste purtroppo di queste situazioni di infortunio noi peraltro come Confapi con i nostri enti strumentali siamo e patrociniamo la formazione gratuita della sicurezza dei dipendenti e abbiamo anche una manifestazione che terremo il 12 maggio su 90 di Piave che ha proprio l'obiettivo di fare il punto assieme tra tutti gli attori coinvolti nel mondo del lavoro sulla tematica della sicurezza e soprattutto della prevenzione dell'infortunio che deve essere oltre che il rispetto di norme deve essere anche una parte della cultura e deve essere parte della cifra dell'imprenditore c'è un altro tema che emerge da questo servizio che è il lavoro nero ma non solo il lavoro nero ma anche sostanzialmente un po' il fuori busta è un tema di cui si è dibattuto molto in questi mesi soprattutto perché manca personale nel settore ad esempio della ristorazione e sono emerse tante storie queste storie sono degli unicum o il tema del fuori busta anche a causa ovviamente della passazione sul lavoro che abbiamo è un tema reale no no è un tema reale è un problema che chiaramente noi rileviamo assolutamente in contrazione per tutta una serie di motivi ma su questo però siamo attivi e abbiamo fatto delle proposte perché al tavolo ministeriale sulla riforma fiscale noi abbiamo proposto la detassazione degli straordinari questo è da un lato un incentivo diciamo un aiuto anche alla situazione di inflazione che piuttosto quindi consente di fare in modo che il dipendente abbia una minore tassazione sulla parte in più che decide di fare e giustamente questo è un aspetto importante la tassazione sul lavoro è effettivamente elevata questo chiaramente non giustifica fenomeni deteriori come quello del lavoro nero ovviamente me ne guardo bene ad affermarlo però è anche vero che un intervento sul salario del personale dipendente va fatto è un'urgenza importante ed è proprio un problema sociale la nostra proposta è relativa anche per esempio la parte degli incrementi contrattuali e quella relativa allo straordinario deve avere forzatamente anziché un disincentivo un incentivo che deve essere appunto passa per la tassazione Mauro Visentin da te con questi temi sono tra pochissimo ma perché vorrei andare un attimo da Simone abbiamo sentito parlare appunto di tassazione degli straordinari buste paga che potrebbero essere un po' più pesanti ma ovviamente la tassazione sul lavoro è molto alta questo è anche una delle cause per cui ad esempio si fa fatica a trovare autisti oddio il discorso straordinario per quanto riguarda l'autista non è che sia tanto incentrato perché noi abbiamo un regolamento delle ore di guida quindi siamo abbastanza vincolati a questo però sicuramente il fatto di non trovare autisti è un po' un fatto di cultura credo anche perché comunque alla fine stai via tutta la settimana è un lavoro duro è un lavoro pesante stai via la famiglia per cui incentivare in questo modo questo tipo di lavoro sarebbe magari con altre forme credo penso io cosa è cambiato nel tuo settore dal punto di vista del lavoro dell'occupazione in questi anni voi siete un'azienda storica quindi puoi raccontarmi beh sì sono diversi anni ma cosa è cambiato è cambiato un po' sono cambiate le regole anche secondo me cioè oggi come oggi secondo me lavoriamo in un mondo nuovo moderno che è molto veloce rispetto alle regole che ci sono ancora oggi abbiamo delle particolarità che sono le ore di guida che sono state determinate molti molti anni fa che potrebbero essere anche riviste perché oggi c'è un traffico molto più importante quando ti fermi sulle GDO per esempio hai tempi d'attesa per le scariche che sono infiniti è stata una buona cosa soprattutto magari tecnologizzare il tachigrafo perché comunque alla fine non puoi più controvedere alle ore di guida però secondo me ci potrebbero essere potrebbero mettere in pista dei sistemi un po' più moderni perché oggi effettivamente il mondo è cambiato rispetto a 40-50 anni fa e le regole sono le stesse siete una categoria che cerca personale? siamo una categoria che cerca personale sempre in maniera violenta anche perché purtroppo si fa fatica penso che il 50% del personale viaggiante sia straniero per cui benvengano anche gli stranieri che fanno ancora questo tipo di lavoro gli italiani la media degli autisti italiani penso che sia intorno ai 50-55 anni e quindi sarà un vero problema da qua a 10 anni e i giovani non vogliono fare questo mestiere? fanno fatica fanno molta fatica perché effettivamente a parte che secondo me si fa fatica a trovare personale in qualunque tipo di settore dal magazzino all'agricoltura per cui di conseguenza è abbastanza generalizzata la cosa e poi ci sono i costi delle patenti che sono importanti hanno stretto hanno fatto anche il discorso del CQC che alla fine secondo me per carità aiutate le spettatori a capire di cosa stiamo parlando CQC è una specializzazione della professione dell'autista che alla fine non è un altro che un corso ripetuto della patente fondamentalmente per cui anche quello è un deterrente ad avvicinarsi a questo tipo di lavoro quindi una cosa più l'altra secondo me quindi le patenti costano tanto gli stipendi forse non sono altissimi da contratto nazionale perché prima ad esempio Giorgio Pavanna parlava degli operatori sociosanitari e diceva li stiamo cercando da tutte le parti del mondo perché perché il lavoro qui in Italia non è così attrattivo assistere gli anziani magari lavorare nel mondo dei trasporti a meno che non sei titolare di un'azienda le patenti sono costose ci dici le patenti sono costose stiamo anche dando una mano perché io come azienda per esempio pago le patenti a dei ragazzi giovani che vogliono avvicinarsi a questo tipo di attività però diciamo che come hai detto tu gli stipendi sono bassi se guardiamo il contratto nazionale e le trasferte sono quelle di 20 anni fa 25 anni fa quando oggi mangiare fuori la trasferta sarebbe il contributo per il pasto dell'autista e 20 anni fa si mangiava con 10 euro oggi con 18 euro forse per cui dovremo un attimino rivedere un po' questo sistema questo sistema è brutto dire è brutto dire noi lo abbiamo detto ma quando si derubrica all'ora del lavoro a merce e succede questo succede che dopo si sta sottolineando le regole del mercato invece il valore dovrebbe essere un'altra cosa per cui ci dovrebbe essere la fiducia la giusta retribuzione che metto al secondo posto non perché sia meno importante avere una giusta retribuzione ma perché presumo che chi voglia oggi trovare un impiego deve avere perlomeno la certezza che quell'impiego ce l'avrà anche domani anche dopo domani deve avere la certezza come succedeva a qualche anno che si poteva costruire una prospettiva di vita rispetto al proprio al proprio lavoro e allora ci si identificava con il lavoro e e ci facevano anche i sacrifici per il lavoro questo è saltato è saltato come logica tant'è vero che le assunzioni nei luoghi di lavoro quelle a tempo indeterminato sono una minoranza e vorrei dire esigua e questo non aiuta tutto il resto aiuta la mobilità perché quando uno non è certo che in quel luogo di lavoro ci rimane per come dire fino a quando non lo decide lui è anche disponibile a cambiare in maniera repentina dall'oggi al domani e a cambiare anche il settore aggiungo questo che bisognerebbe visto che come tutti stanno dicendo è cambiata la società è cambiato il modo di vivere bisognerebbe anche rivedere i tempi di vita e i tempi di lavoro che sono quelli che fanno la differenza nelle scelte dei lavoratori anche nel ricollocarsi in realtà lavorative diverse capo a quello che diceva Simone il lavoro dell'autotrasportatore piuttosto che il lavoro dell'assistente sociosanitario si diceva prima con Pavan non è sempre così attrattivo perché non permette sempre una conciliazione dei tempi di vita e dei tempi del lavoro efficace sì sicuramente oggi secondo me dovremmo rivedere anche un po' il discorso dei part time non sicuramente per gli autisti però anche per il personale io ho una logistica ho 60 persone tra magazziniere impiegati i part time oggi sono costosi di conseguenza il mondo femminile comunque secondo me sarebbe un monto da prendere a disposizione per il mondo del lavoro però giustamente una donna con figli non potrà mai fare 8 ore costano troppo per voi i part time? i part time sono onerosi rispetto a un contratto a tempo pieno per cui non c'è proporzione diciamo non sono però completamente d'accordo per quanto riguarda il discorso delle assunzioni a tempo determinato o indeterminato in quanto secondo me ci sono troppi ammortizzatori sociali che inducono le persone a crearsi dei piccoli paradisi fiscali perché se posso permettermi insomma io tante volte incontro persone che vengono lì che chiedono contratti per due o tre mesi per dopo andare in disoccupazione per altri 24 mesi quindi dovrebbe esserci un po' più controllo sul merito mauro cosa dici su questo lavoro per due mesi e poi si rimane a casa per poter prendere l'indennizzo la legge sulla disoccupazione prevede che io possa al massimo recuperare un periodo di indennizzo che è la metà delle settimane che ho lavorato nei quattro anni precedenti per cui i 24 mesi di indennizzo li ho se ho lavorato due anni pieni e quattro anni pieni precedentemente se io lavoro tre mesi avrò un mese e mezzo di indennizzo di NASPI di disoccupazione tra l'altro ricordo anche che la NASPI dopo il primo anno si riduce mensilmente in una percentuale che arriva fino al 70% alla fine per cui ecco la questione degli indennizi rispetto al lavoro a tempo determinato è probabilmente forse appannaggio di qualcuno che se lo può permettere però un lavoratore credo normale non possa permettersi di fare questo tipo di ragionamento io penso invece che effettivamente bisogna agire sulle leve che fino ad oggi da diverso tempo sono rimaste ferme e che sono quelle legate uno a superare la precarietà due adeguare gli stipendi effettivamente al costo della vita almeno al costo della vita perché in questi anni gli stipendi hanno perso potere d'acquisto e per cui diventa difficile vivere magari e bisogna sempre guardarsi intorno se ci sono situazioni migliori da poter in qualche maniera poter agganciare e l'altra questione è ovviamente adeguare i tempi di vita i tempi di lavoro ricordo che lo dico spesso che se una volta i nonni facevano come dire da babysitter ai figli ai nipoti dei propri figli oggi i nonni sono a lavoro perché è cambiata anche la tempistica a cui si va in pensione e pertanto non c'è neanche più quel welfare familiare che prima veniva assicurato dalle generazioni precedenti però voglio chiederti una cosa rispetto a alcune cose che sono state dette anche nel servizio che abbiamo ascoltato che fotografie avete voi come sindacato del lavoro nero delle assunzioni con il fuoribusta avete avuto segnalazioni in questo senso ad esempio in provincia di Treviso e se sì per quali settori sì ogni tanto capita è chiaro che questo succede nel momento in cui i settori sono quelli classici devo dire che il manifatturiero specialmente le piccole e piccolissime realtà per cui tutte quelle legate al lavoro che possono come dire agganciarsi ad appalti per cui subappalti soprattutto e dove i controlli sono meno frequenti o dove come dire anche la frequenza del lavoro è abbastanza mobile penso all'edilizia piuttosto che all'agricoltura dove effettivamente è più difficile individuare anche il luogo fisico di dove si sta svolgendo il lavoro però anche il turismo molto spesso e anche le piccole piccolissime manifatture le piccole fabbriche piccolissime fabbriche e devo dire molto spesso capita anche nei studi professionali ad esempio commercialisti piuttosto che avvocati molto spesso ci si nasconde anche dietro lo stage piuttosto che il come dire il lavoro a part time allora Marco ti si vorrei far commentare a Marco Zecchinelli le parole di Mauro Visentini che ovviamente ha la visione insomma del sindacato voi come Confapi che cosa che osservazione potete fare non voglio contraddire il segretario Visentini in relazione per esempio alla questione del tempo determinato e tempo indeterminato perché se noi guardiamo i dati di Veneto lavoro di febbraio e gennaio abbiamo una differenza tra saldi e cessazioni che è più 12.500 posti di lavoro in Veneto che tra l'altro è la prestazione migliore rispetto al a 5 da 5 anni a questa parte quindi abbiamo ampiamente superato la parte pre-Covid la gran parte di questi sono posti di lavoro a tempo indeterminato tra l'altro ci sono ancora in essere tutti gli tutti gli strumenti legislativi del decreto dignità che quindi chiaramente impediscono anche la proroga del tempo determinato oltre l'anno sostanzialmente quindi a livello di normativa ci sono dei limiti assolutamente di fatto in Veneto questo problema della precarietà del lavoro è un problema che naturalmente è presente in ogni mercato del lavoro ma in questa area d'Italia non è certamente una delle problematiche principali tant'è vero che sempre dati di Veneto lavoro ci dicono che su 100 posizioni occupabili 100 posti di lavoro disponibili ne vengono occupati praticamente poco più del 50% quindi c'è un 25% di posti di lavoro che non sono occupati perché diciamo sul mercato del lavoro non sono disponibili certe competenze che sono competenze sofisticate questa secondo me è la questione chiave cioè allora il lavoro c'è e consentimi di dire che l'altro 25% invece non è occupato proprio perché in questo paese c'è una piramide demografica invertita che è quella di cui parlavi poi poco fa e quindi di fatto non ci sono non ci sono le persone e qui veniamo a cutro nel senso dico cutro perché l'ha nominato prima Giorgio Pavan le persone che arrivano sul nostro territorio voi le attendete a braccia aperte? allora diciamo è una tematica è una tematica estremamente complessa perché naturalmente è una tematica che ha una chiave di lettura imprenditoriale una chiave di lettura sociale ed una politica quello che io mi limito a dire è semplicemente questo che attualmente per ogni persona che lavora diciamo che ci sono anzi per ogni persona inattiva ci sono 1,3 persone che lavorano entro questo decennio praticamente andremo uno a uno quindi c'è tutto un problema di sostenibilità del sistema sanitario del sistema previdenziale che deve essere messo in campo a questo punto le persone che arrivano possono rappresentare un'opportunità possono rappresentare un'opportunità laddove chiaramente ci sia un sistema di accoglienza che chiaramente deve avere una struttura giuridica importante ma deve tener conto anche della capacità e della volontà di lavoro che hanno le persone se sono giovani se sono persone in grado di lavorare invece un percorso di assistenza a chi invece donne, bambini persone anziane chiaramente arrivano in questo paese e hanno diritto agli strumenti dell'asilo perché e lo chiedo a te Simone allora io ho chiara l'immagine dell'ex Zanusso di Oderzo diverse volte sono stata lì a fare dei servizi diverse volte mi sono trovata davanti tantissimi giovani tantissimi ragazzi alcuni prendevano la corriera per andare a lavorare non so esattamente dove andassero ma invece tantissimi stavano lì diciamo nell'ozio perché magari non hanno altre possibilità e sono lì da anni da anni allora lei come imprenditore assumerebbe qualcuno di loro si farebbe carico della sua formazione o è un costo troppo elevato cioè dov'è che si inceppa il meccanismo per cui comunque ci sono delle persone ovviamente nella burocrazia perché poi loro sono ancora in attesa di avere lo status di rifugiato non hanno un permesso di soggiorno quindi passiamo diciamo il cavillo burocratico immaginiamo che queste sono persone che potrebbero essere disponibili per lavorare domani beh diciamo che io in magazzino per esempio anche perché sono lavori di sacrificio e secondo me dovremmo ricordarci un attimino il sacrificio del lavoro e forse magari noi italiani siamo un po' distanti da questo ultimamente come questa percezione io in magazzino ho tantissimi ragazzi di colore cioè su 30 magazzinieri ci sono quasi 20 credo ma c'è qualcuno che ha attraversato ad esempio arrivato da noi attraverso un barcone cioè ci sono anche quelle storie lì tra i poio ma probabilmente sì sono storie di migrazione diverse allora probabilmente sì diciamo che comunque dopo non lo voglio mai sapere perché alla fine sono cose abbastanza private arrivano con le agenzie per cui è gente già introdotta nel mondo del lavoro e comunque sono dei bravi ragazzi alla fine ci sono delle mansioni in Italia che se non ci fossero degli stranieri che le facessero non le farebbe più sono i muratori per esempio cioè i muratori trovare un muratore italiano penso che sia veramente come cercare un ago sul pagliaio montatori di mobili ormai sono squadre di ragazzi albanesi o macedoni quindi secondo me è un po' la cultura che viene a mancare nel mondo del lavoro i migrati in Italia quanti ne servirebbero è il titolo che stiamo dando a questo dibattito ve ne sono altri ma insomma adesso stiamo parlando di questo e nemmeno il governo aveva i numeri così chiari sull'esigenza ad esempio tu Marco avete fatto un po' il calcolo di quante ne servirebbero ad esempio nel veneziano cioè possiamo dare un peso a queste allora il calcolo è estremamente complesso e d'altra parte anche il decreto Flussi ha avuto una gestazione complicata mi sembra che il decreto Flussi abbia autorizzato circa 80 mila 80 mila ingressi insomma si fa una stima addirittura sul mezzo milione che poi comunque sono connessi a questa problematica delle posizioni di lavoro che non vengono occupate la cosa ha un riflesso diretto che è appunto la questione di che cosa fare con questi migranti e la necessità dell'impresa ma c'è anche un altro problema che è il nostro sistema industriale che è un sistema prettamente manifatturiero e che se con queste difficoltà fatica a generare valore quindi noi dobbiamo sempre tenere presente che tutte le politiche che noi facciamo anche in favore del lavoro della sanità sono sempre legate al fatto che il nostro sistema di imprese produca valore se questo valore non viene prodotto tutto il resto diciamo ha poco senso quindi un sistema manifatturiero come il nostro che ha difficoltà a trovare mano d'opera e difficoltà a trovare impiegati specializzati operai specializzati tecnici specializzati in un mondo che diventa sempre più complesso in cui anche le macchine operatrici perché la realtà che ci diceva prima il segretario della CGL le piccole fabbriche in realtà purtroppo la piccola fabbrica è sempre meno è una realtà che io francamente vedo man mano diminuire proprio perché oggi per poter essere competitivi sul mercato servono struttura noi abbiamo calcolato per esempio questo sia un calcolo che abbiamo fatto un imprenditore italiano passa 280 ore per adempimenti tributari è il doppio della media oxe quindi questa è la competitività questo è il valore e questo è poi quello che si può rendere a chi lavora la tribuna di Treviso oggi ha pubblicato un articolo interessante a questo tema dice nella marca aziende sempre più vecchie crescono solo titolari con più di 50 anni negli ultimi 10 anni la marca ha perso oltre 7500 imprenditori con meno di 50 anni è anche per questo motivo qui? no infatti anche su questo fronte se noi guardiamo poi i dati delle partite IVA gli stranieri rappresentano la gran parte delle nuove partite IVA quindi paradossalmente credono nel futuro industriale del nostro paese più di quanto ci crediamo noi questo è poi un grande un grande un grande paradosso quindi queste sono problematiche importanti bisogna fare un'azione in favore delle famiglie sostegno delle famiglie anche dal punto di vista dal punto di vista retributivo degli assegni familiari della modalità con cui sono erogate e poi una politica ovviamente di inclusione e avvio al lavoro anche di chi arriva da fuori è un dato è un dato imprescindibile altrimenti questo decennio potrebbe essere il decennio del declino industriale del nostro paese e Vicentino poi queste sono affermazioni che voi condividete dell'importanza dell'inserimento di insomma del fatto che l'immigrazione possa essere un'opportunità sia un'opportunità se ben governata assolutamente sì noi pensiamo che sia una risorsa non sia un peso anzi proprio visto anche il declino e l'inverno demografico come viene chiamato del nostro territorio e dell'Italia in generale se non ci fossero come dire subito da subito delle iniezioni di forze fresche che si avvierebbero al lavoro è chiaro che noi avremo delle difficoltà e delle difficoltà enormi proprio di far funzionare le nostre aziende vorrei solo fare una precisazione rispetto alla questione del del lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato i lavori i lavoratori previsti in entrata dalle imprese per tipologie di contratto nel 2023 nel periodo fino a marzo 2023 questo è un dato ANPAL Union Camere divulgato dal sistema Excelsior e sono sostanzialmente il 51 e 4% con contratto a tempo determinato e altri contratti sono il 5 e il 4 il il 2 e il 5 il 10 e il 7 che sono contratti di lavoro sostanzialmente che sono contratti atipici solo il 21 e il 2 per cento sono a tempo indeterminato vuol dire che il restante della torta il 78 e 8 per cento delle assunzioni sono con contratti che non sono a tempo indeterminato questo significa che è difficile mantenere una prospettiva di lavoro anche per il futuro per chi viene impiegato in maniera diversa detto questo detto questo è chiaro che come dire non tutti i contratti possono essere a tempo indeterminato di questo ne siamo ben certi perché ci sono i lavoratori del turismo dei servizi eccetera però detto questo è chiaro che noi dobbiamo cambiare il paradigma del lavoro e di come viene percepito il lavoro se no effettivamente diventa una merce che viene scambiata venduta e acquistata in maniera indifferente dalle altre merci e il lavoro non può essere questo perché se no manca come dire l'affezione al lavoro manca l'identificazione con il lavoro e le aziende cominciano a pagare il costo di questo tipo di situazione se aggiungiamo il fatto che mancano anche lavoratori proprio numericamente mancano i lavoratori noi dovremmo fare ponti d'oro a chi arriva in Italia per avere una prospettiva migliore non li dovremmo mettere dentro alle caserne dovremmo ripristinare quanto succedeva prima dei decreti Salvini del 2018 dove l'accoglienza era diffusa in piccole di vita dove era possibile formare queste persone e avviarle al lavoro e anche avere delle verifiche molto ravvicinate per chi dava come dire l'assistenza aveva anche un monitoraggio di cosa succedeva noi abbiamo visto lavoratori o migranti che venivano raccolti da turnoni anonimi davanti alle caserne venivano portati nei campi a lavorare e abbiamo denunciato questo e erano ovviamente delle persone del tutto trasparenti e del tutto sfuggevoli alla legalità ma questo lo si può fare quando ci sono le grandi masse quando ci sono i grossi numeri e quando è difficile fare i controlli grazie grazie Mauro Visentin Simone chiederei a te un po' un ragionamento conclusivo ti vedevo annoire e dissentire anche le parole del segretario della CGL in questo caso tu per la tua esperienza professionale da imprenditore ma diciamo che i tempi determinati hanno un costo maggiore rispetto all'indeterminato per le aziende quindi questo dovrebbe essere un deterrente per pensarci io assumo tempo determinato per 6 mesi ma non perché ho bisogno per 6 mesi ma perché tante volte ti porti a casa delle persone che magari non sono proprio così produttive e possono fare del male all'azienda per cui di conseguenza io che devo cercare di mantenere un certo tipo di range in azienda devi guardartene un po' credo oggi che in tutti i settori ci sia una mancanza di personale talmente importante che non sia proprio a prescindere da magari il settore alberghiero o comunque il settore del turismo che ovviamente ha dei tempi determinati di crescita c'è un andamentale importante però oggi effettivamente c'è la mancanza di personale non credo che faccia tanto testo su determinato o indeterminato credo proprio che ci sia un fuggi generale c'è stato anche adesso durante appena dopo il lockdown per esempio la gente è vero che si si spostava da un'azienda all'altra però ci sono più per esempio più licenziamenti che assunziano ultimamente quindi persone che cercano proprio un'altra vita cercano un benessere cercano un benessere personale cercano magari di fare meno ore di quanti operatori avresti bisogno tu tra magazzineri e autisti beh oddio siamo alla ricerca di 5-6 persone da diverso tempo ma noi come con Fabio abbiamo indotto un corso under 30 con della formazione e tra l'altro pagato con 10 persone che dovevano arrivare entro il 25 di marzo ne abbiamo tra di 4 questo potrebbe far pensare quindi il corso non è partito il corso per? ho detto operatore alla logistica si si ha detto operatore alla logistica under 30 poi avete finanziato un corso per 10 persone? è finanziato sono fondi fair sport quindi sono strumenti strumenti previsti a livello regionale e quindi sono corsi interamente gratuiti per la formazione di under 30 all'operatore logistica e praticamente insomma abbiamo selezionato 4 ma ne abbiamo anche un altro in essere ora siamo alla ricerca di 10 under 30 per la formazione al lavoro di frigorista formazione pagata tirocino in azienda e patentino Fgas che oggi sul mercato ha un costo di 3-4 mila euro che è compreso in questo pacchetto ne abbiamo trovati 2 dobbiamo partire a maggio è un problema under 30 parliamo di under 30 insomma quindi dopo sono dinamiche ecco e questi sono i dati e con questo io devo chiudere perché poi ho un dibattito politico ma insomma mi sembra che abbiamo messo diversa carne al fuoco io ringrazio davvero le persone che hanno contribuito a questo dibattito Mauro Visentini in collegamento segretario della CGL di Treviso grazie grazie Mauro buona domenica Marco Zecchinell presidente Confapi Venezia grazie sempre puntuale è sempre un piacere averti con noi e Simone Vainieri imprenditore del settore della logistica e dell'autotrasporto grazie per essere stato con noi torniamo in pubblicità poi qui con noi Alessandro Manera Stefano Roberto Grigoletto Terzo Polo Lega e vediamo un po' di capire per queste comunali a Treviso che cosa bolle in pentola vi aspetto tra poco Ben ritrovati abbiamo una notizia che è stata battuta adesso dal Corriere della Sera c'è stata una valanga in Valle Aurina sono stati travolti due turisti veneziani che sono morti sono deceduti tra poco riusciremo a darvi qualche notizia in più la notizia davvero battuta da pochi minuti intanto io vi presento i nostri ospiti sono Alessandro Manera Assessore del Comune di Treviso ai diversi assessorati Alessandro ma insomma sostanzialmente è qui in rappresentanza della Lega e Roberto Grigoletto in rappresentanza del Terzo Polo buongiorno Terzo Polo che ha ufficializzato le liste proprio insomma ieri di recente venerdì poi c'è stata l'ufficializzazione della lista allora sostanzialmente poi qui con noi abbiamo l'amministrazione e la passata amministrazione perché Grigoletto tu eri vice sindaco e allora io vi vorrei mettere a confronto proprio su questo vorrei partire da una cosa dal tema della sicurezza perché tu Roberto dicevi le nostre ordinanze voi siete stata l'ultima amministrazione che ha fatto delle ordinanze l'ordinanza anti alcol cioè che ha provato a governare il tema della sicurezza attraverso lo strumento delle ordinanze mi dici che cosa ha funzionato e che cosa non ha funzionato proviamo a essere diciamo brevi per toccare diversi temi ma vi vorrei mettere a confronto su questo due cose hanno funzionato intanto l'ordinanza anti alcol nella zona degli fiumicelli del PAM quella ha senz'altro funzionato dall'altro lato anche il tentativo che abbiamo iniziato a fare di cercare di riempire quelle zone chiamiamo così punti vulnerabili come ad esempio i giardinetti di Sant'Andrea o altre zone se sono abitate sono frequentate da persone e se vengono realizzate delle attività è evidente che le band le baby gang chiamiamole come vogliamo non hanno possibilità di albergare e quindi di disturbare che non è solo un disturbo è addirittura un pericolo c'è un problema di sicurezza cosa non ha funzionato che bisognava a mio avviso insistere ancora attraverso certamente lo strumento delle ordinanze e dall'altro lato anche investire continuare a investire sulla prevenzione e quindi sulla collaborazione con l'USL e con gli animatori di strada non ha funzionato dal punto di vista politico e concludo la presenza in quella coalizione nella nostra coalizione di una sinistra che c'è a sostegno in queste elezioni del candidato sindaco Denardi e che è quella sinistra radicale che non voleva assolutamente saperne di ordinanze anti-alcol non voleva sapere di interventi dei vigili urbani che bisognava lasciare le cose che andassero così e infatti abbiamo perso le elezioni quindi secondo lei questo è un po' uno dei motivi per cui si è perso le elezioni uno dei motivi certamente però è un tema questo che sarà nell'agenda di questa campagna elettorale delle prossime elezioni è candidato con il terzo polo si dico e sarà sicuramente uno dei temi perché c'è un problema di sicurezza a Treviso però l'ho detto anche recentemente anche qui sempre in un dibattito con Alessandro e cioè che comunque il tema della sicurezza è un problema che comunque è cambiato non possiamo paragonare il problema della sicurezza che si vive in questi mesi in questi ultimi anni a Treviso soprattutto dopo la pandemia con quelli che erano problemi della sicurezza altri che invece avevamo dovuto affrontare noi per questo è un proposto e chiudo il Consiglio Comunale di poter anche con l'amministrazione lavorare responsabilmente invece da sinistra abbiamo sempre dei soliti attacchi ideologici io penso invece sarebbe interessante lavorare insieme per la città e fare delle proposte concrete quindi un dialogo più facile con l'amministrazione Conte in questo senso secondo lei la grossa differenza è tra chi amministra e è amministrato e quindi si intende sulle cose da fare e pensa agli interessi dei cittadini e chi invece come candidato Denardi non ha mai messo piede nemmeno in Consiglio Comunale e forse non si rende nemmeno conto di quali sono i problemi della città e sono solamente slogan ideologici e questo è il problema Manera si è sottovalutato il tema della sicurezza secondo lei qui a Treviso? No e lo dico sinceramente lo dimostra il fatto che abbiamo messo tantissime telecamere in tutta la città perché poi noi dobbiamo far fronte anche a quello che è la disponibilità della polizia locale di molte altre emergenze che abbiamo perché sono molte quindi non l'abbiamo sottovalutato abbiamo triplicato il numero di telecamere che ci consentono di intervenire velocemente sui punti non possiamo pensare di militarizzare la città a parte che non ne ha bisogno perché non vorrei anche che alcuni episodi diventino motivi di dire che la città non è sicura non è così ma abbiamo un altro fenomeno che è post pandemico che nessuno di quelli che aveva amministrato da qui da noi al 1918 con un altro tipo di pandemia può calcolarlo cioè questi ragazzi se ci riferiamo alle baby gang che poi mi dicono e lo sottolineo anche gli psicologi che dagli anche della gang gli dai anche quasi un'attribuzione di diciamo fa un po' figo diciamola così far parte di una gang quindi bisognerebbe anche smitizzare questa cosa e molti moltissimi la maggior parte non sono neanche di Treviso quindi è difficile per noi anche operare all'interno delle loro famiglie perché non sono di Treviso arrivano in corriera in treno in bicicletta in motorino non più perché non si usa più arrivano a Treviso e decidono di occuparla nei modi peraltro guardate molti di questi ragazzi non commettono neanche reati deturpano quello sì sporcano magari hanno dei comportamenti spesso lo dico proprio chiaramente incivili anche maleducati nei confronti delle persone diciamo più adulte però in realtà non è che fanno scippi o reati veri il problema che dà un grande senso quando si aggregano così di insicurezza se vi ricordate è successo l'anno scorso che per qualche sabato si dà un appuntamento sui social network che è un altro problema perché chiaramente l'evoluzione di Instagram Facebook TikTok ha dato tutta una funzione diversa una visualizzazione diversa a questi fenomeni se vi ricordate i sabati grazie alle telecamere grazie alla PBL siamo intervenuti immediatamente e abbiamo sedato qualsiasi faccino roso poi ci sono delle zone sensibili secondo lei gli attreviso perché abbiamo visto quello che è accaduto in Mia Zelson di Piave poi c'è la via Roma che è stata attenzionata più e più volte sono realmente zone sensibili o ci sono delle attività che magari devono essere più attenzionate di altre? questo è anche quello allora diciamo così ci sono delle zone più sensibili per definizione le stazioni dei treni guardate provate a andare in altre città Mestre Padova è chiaro è un andiriviene di persone che tu non conosci non è lo struscio diciamo un po' più bello che è verso Piazza dei Signori o il Cal Maggiore e quindi sono zone più sensibili per definizione io peraltro vorrei dire la mia famiglia da mio nonno che lavorava in generale civile abitano lì da tre generazioni guardate che la Siamic io lo garantisco non è mai stato diciamo anche vent'anni fa un centro culturale elevato i problemi ci sono sempre stati è chiaro che è combattere questo in maniera importante limitare l'alcol certo è una funzione però poi ci sono dei supermercati e cosa fai è molto complessa la cosa come diceva giustamente l'amico Roberto chi non è mai stato in amministrazione ha delle risposte molto facili facciamo questo mandiamo via però poi quando sei là cosa fai danneggi il bar che regolamente vende alcolici a dei maggiorenni che magari vanno a prendersi a 400 metri di distanza su un supermercato tra bottiglie di vodka cosa fai fisicamente questi ragazzi guardate io lo dico la lettera che ha scritto il sindaco vanno impegnati in maniera diversa lavori socialmente utili sì ma anche tanto sport perché hanno una fascia di età adesso mettiamoci qua noi tre ma se ci avessero chiuso per due anni a 16 anni a 14 anni dentro una casa senza uscire cioè le reazioni io non lo so torniamo al covid ne abbiamo parlato anche all'inizio di questa di questa trasmissione caserma salsa le piace il progetto che ha in mente quello il futuro della caserma salsa presentato dall'amministrazione ma sicuramente sì come tutti quanti del resto i buchi neri diciamo che devono essere assolutamente rivalorizzati e lasciarli così rischiano appunto oltre che andare in depredimento ma voglio dire rischiano poi di essere anche fatti oggetto di occupazioni anche voglio dire sono occasioni mancate ecco quindi certamente ogni progetto che possa valorizzare e anche così riconvertire certi certi siti trova sicuramente il nostro il nostro apprezzamento ne va dello sviluppo della crescita della bellezza se posso dire anche della nostra della nostra città quali altri avrebbe in mente lei? Beh ci sono alcune anche il palazzo il palazzo scotti per esempio a me piacerebbe moltissimo che potesse essere rivalorizzato è stato per a lungo anche sede anche del comune oltre che dell'azienda di promozione turistica è nel centro in via dei colli ecco ed è appunto dietro al famoso ai famosi giardini di Sant'Andrea ecco potrebbe anche essere un centro culturale importante questo da valorizzare mi permetta soltanto di aggiungere che un aspetto importante sempre per chiudere sul tema della sicurezza è quello del controllo del vicinato che noi avevamo attivato per primi avevamo fatto per primi il patto con il ministero dell'interno sulla sicurezza e devo dire che quello a mio avviso dovrà essere ripreso se saremo noi a vincere le elezioni lo riattiveremo se non saremo noi saranno nella coalizione di centro-destra sicuramente chiederemo a quella coalizione di farlo perché la collaborazione il concorso di tutti quanti i cittadini è fondamentale per avere un controllo veramente su tutta la rete della città e anche delle periferie uno dei grandi problemi di Treviso è quello dei parcheggi uno dei grandi problemi di Treviso soprattutto nel weekend si fa fatica la sera anche a trovare parcheggio allora sì c'è il grande progetto di piazza Vittoria ma insomma si può anche intervenire in maniera differente oltre a questo sì sottolineo due cose primo che ha escluso che il centro-sinistra diciamo possa vincere l'elezione ha detto o noi o loro però potrebbero aver bisogno dei voti del centro-sinistra se si andasse al ballottaggio cioè voi potete anche immaginare di chiedere io ho detto questo perché se anche diciamo al centro-sinistra Denardi non ti ascoltano perché comunque loro hanno già le loro idee sanno già insomma come devono fare la sento in aperta polemica no no io sono molto realista e molto oggettivo molto obiettivo leggo le situazioni ma basta penso anche anche i telespettatori basta che leggano i giornali le uscite di Denardi e di certa sinistra e anche del PD devo dire ahimè mi sembra che si commentino da su quindi del quale lei faceva parte del quale io facevo parte ma che sinceramente per il quale a parte non ho nessuna nostalgia ma perché onestamente non è più quel partito nel quale io sono entrato soprattutto dopo le elezioni di Rushline mi sembra che sia il partito comunista 4.0 forte questa cosa beh allora per arrivare ai parcheggi vorrei sottolineare che la caserma voi sentite un'affinità col terzo polo evidente ma guardate guardate io devo essere sincero quando il consiglio comunale trovi una linea logica perché alla fine noi dobbiamo amministrare la città noi non siamo l'Italia in quel caso siamo il comune di Treviso rappresentiamo il bene dei cittadini di Treviso se quando vediamo e ne discutiamo che abbiamo una certa affinità sulle logiche la caserma Salsan è un esempio l'abbiamo presa dal demanio diciamo perché era una caserma militare abbiamo un progetto che siamo riusciti grazie al PNNR in parte e grazie ad altri fondi a prendere i finanziamenti quindi è già finanziata e in fase di gara peraltro io voglio sottolineare questo anche all'ambiente a volte che ai fondi PNNR che siamo partiti dalla parte esterna che è un punto importante guardate questo ha cambiato veramente il paradigma la parte esterna è più importante delle strutture stesse perché il quartiere ha bisogno di ossigeno e quando loro dicono beh è un lavoro ben fatto possiamo vedere alcune cose cioè non è che si può dire no no e nei parcheggi è un altro punto allora bisogna dircelo chiaramente allora Treviso è molte attività produttive bar, ristoranti dopo la pandemia torniamo sempre là sono sopravvissute perché abbiamo aperto tantissimi plateatici altrimenti chiudevano ma i plateatici tolgono posti cioè Treviso è una città storica non è che ti inventi non è che e a quel punto però finita la pandemia i plateatici sono diventati una risorsa per tante attività perché la gente si è abituata a stare fuori e questo vuol dire amministrare a un certo punto nel bilancio perché se poi la città si svuota di locali si svuota diventa una città morta i parcheggi sono diventati sempre di più un problema un'altra cosa sottolineo ci sono sempre più parcheggi giustamente per le persone disabili rispetto alle normative precedenti quindi tu escludi parcheggi per i normodottati e avanti avanti abbiamo messo i parcheggi per le mamme incinta ci sono le auto elettriche cioè il numero di posti si riduce lei ha in mente un intervento di pedronizzazione più coraggioso per Treviso telegrafico telegrafico sì ma fatto senza i parcheggi ammazzerebbe il centro e creerebbe nell'anello del put il disastro basta che uno bucchi una gomma quando si chiude il centro nel put e fai una coda che arrivi per i trevigiani fino a Preganziola fino a Paese purtroppo lo abbiamo visto col Pums se tu non hai questo attraversamento che ci piaccia o no finché non abbiamo i parcheggi non è possibile va fatto moderatamente e andando avanti con i parcheggi disponibili il rigoletto pedonalizzazione del centro fino a che punto si può arrivare il punto massimo per quanto riguarda noi di pedonalizzazione noi avevamo iniziato con la giunta a Manildo in questa direzione c'è come dice Alessandro il problema di parcheggi è assolutamente vero l'idea nostra è quella di creare i parcheggi fuori dal centro e di collegare il centro con dei bus navetta con degli autobus comunque anche nel centro dovranno entrare più agilmente quindi autobus più piccoli so che Alessandro concorderà con questo non inquinanti elettrici chiaramente però i parcheggi fuori e la pedonalizzazione del centro fino a dove la pedonalizzazione? intanto cominciare la piazza Vittoria dove l'attuale amministrazione vuole fare il parcheggio noi invece siamo su questo contrario allora io devo darvi quest'ultima notizia chiedo alla regia di farla vedere è il Corriere del Veneto quella che vi ho dato pochi minuti fa c'è stata una valanga in Valle Urina sono stati trovati due turisti morti sepolti sotto la valanga all'altezza del Sasso Nero un'altitudine di 1700 metri un uomo di 51 anni una donna di 33 ancora non sono state rese note le generalità ma sarebbero di cavallino treporti quindi sono due veneziani l'elicottero è partito da Bressanone non si ha più notizie di loro da ieri erano partiti per un'escursione sono stati trovati morti sepolti sotto la valanga questa mattina le ricerche sono partite quando l'albergatore ha dato l'allarme quindi purtroppo in chiusura di telegiornale dobbiamo darvi anche questa notizia il tempo a nostra disposizione è terminato grazie per essere stati in nostra compagnia grazie ad Alessandro Manera grazie a Roberto Grigoletto siamo alle previsioni del tempo ancora grazie per averci seguito e buona domenica Tremonti attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna benvenuti al meteo una perturbazione attraversa il paese portando qualche pioggia sul nostro territorio vediamo il dettaglio di domenica 26 marzo sul Veneto la pressione diminuisce nella prima parte della giornata tempo stabile e abbastanza soleggiato nel pomeriggio aumento della nuvolosità con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio temperature in lieve calo minime tra 3 e 9 gradi massime tra 15 e 19 all'incirca spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia più sole inizialmente in giornata avremo maggiori addensamenti e piogge localmente intense sulla costa soffierà scirocco moderato temperature minime sui 7 e 9 gradi massime intorno ai 16 17 gradi infine vediamo la situazione del Trentino Alto Adige dove domenica sarà ben soleggiato con annuvolamenti però al pomeriggio a cui saranno associate anche alcune deboli precipitazioni come ci mostra la grafica temperature minime intorno ai 5 gradi massime sui 20 gradi all'incirca dal meteo per ora è tutto vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia Tremonti attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna grazie a tutti